Siamo qui con Claudio Guerrini, istruttore certificato Indoor Cycling. Ecco Claudio, io ti volevo chiedere cos'è l'Indoor Cycling e quali benefici apporta all'organismo? L'Indoor Cycling è un'attività ormai consolidata da tempo, quasi 20 anni, è partita dall'America e via via poi si è propagata in tutta Europa. È un'attività a carattere di fitness, fa bene a chiunque, non ha preclusioni di sorta, è aperta a qualsiasi fascia di età. I benefici sono molteplici dall'allenamento cardiovascolare, dall'allenamento muscolare, da un coinvolgimento emozionale, soprattutto emozionale che caratterizza quasi tutte le lezioni. Grazie a tutti!